Conto alla rovescia per il Giro Mediterraneo-Rosa. Le atlete saranno 118, le squadre professionistiche 17, provenienti da tutta Europa, tra le province campane coinvolte, Salerno, Avellino e Napoli. Delle tre toppe complessive, due saranno gli arrivi in Irpinia, ad Aielo del Sabato, in Montefalcione, quattro le maglie messe in palio, la Maranto per il leader della classifica generale, quella blu per la classifica a punti, la verde per il leader del Gran Premio e della Montagna, la bianca per il minor Under-23 in classifica generale. La manifestazione, che trae origine dal Giro Rosa della Campania, è promossa dalla SD Black Panthers di Francesco Vitiello e dal gruppo BS di Salvatore Belardo. La prima tappa, di venerdì 21 aprile a Torre del Greco Pestum, è in una frazione di linea di 98,4 km. Il percorso si addice molto alla volata finale. Nella seconda tappa, di sabato 22 aprile, Polla, Aielo del Sabato, le asperità aumentano notevolmente con due Gran Premi della Montagna. L'ascesa totale, infatti, di 2256 metri per 128,350 km. Dopo il valico delle croci, GPM dell'ottantesimo chilometro, in un territorio acernese, la provincia di Avelino è attraversata nel territorio di Cassano-Elpino, al km 123,50, si aggiunge da Tripalda per poi tagliare il traguardo ad Aielo del Sabato in salita, a seguire la premiazione. La partenza è fissata per le 12.30, l'arrivo per le ore 16.17.30. Terza tappa, domenica 23 aprile, fratta maggiore, Monte Falcione, frazione in linea nel tratto finale, si sale con possibilità di scossoni nella classifica generale. Al km 42,400, Gran Premi della Montagna, Monteforte-Elpino, si tocca a Mercogliano, al km 67,800, il giro del Mediterraneo in rosa a Proda, d'Altavilla-Elpina, fino al rifornimento a Tufo, al km 73,100 e l'arrivo a Monte Falcione, dove si chiuderà l'evento sportivo con le relative premiazioni della tre giorni. I chilometri totali saranno a 90 e 100 per un'ascesa di 630 metri, partenza a Sabita per le 13.30, arrivo alle ore 17 circa.